Ciao ragazzi Bentornati o benvenuti sul canale spero stiate bene e che siate pronti per un nuovo video super rilassante oggi ho per voi un nuovo video in collaborazione con un brand che vi ho già visto un po' di settimane fa ed è un brand che adoro Ocean Apart questo è il secondo video in collaborazione con questo brand spero che il primo vi sia piaciuto ho letto molti commenti positivi e il brand mi ha dato la possibilità di continuare con la collaborazione saluto sempre la mia dolcissima tutor Claudia per avermi scritto e contattato e dato la possibilità di creare questo secondo contenuto qui sul canale YouTube ho sempre apprezzato tantissimo e adorato i prodotti del loro brand quindi sono super contenta, super felice di poter continuare questa collaborazione se non avete visto il primo video andate a recuperarlo assolutamente magari ve lo lascio qui su in alto basterà cliccare anche questa volta come nel primo video ho per voi un codice sconto che vi permetterà di acquistare tutti i capi presenti sul sito con un extra 20% di sconto il codice sconto è ILAMOS20 ma vi lascio tutto nella descrizione di questo video mostrerò più nel dettaglio i prodotti qui sul lato ve li farò vedere indossati e vi descriverò appunto i prodotti, i set in questo caso per chierò di farlo nella maniera più rilassante possibile il brand di Ocean Apart mi ha dato la possibilità di scegliere anche questa volta tre set e adesso ve li mostro con un rapido unboxing adesso qui i set sono tre e sono super particolari questa volta due set composti da due pezzi ed uno composto da tre pezzi il primo set verde si chiama Elodie Asymmetric Set e si è di un colore verde pino bellissimo molto autunnale il secondo set di questo colore teal descrive il sito ma è un azzurro super particolare si chiama Shiny Up Flaired Set ed è bellissimo dopo ve lo mostro più nel dettaglio e poi l'ultimo set Broke Mini Skirt Set Deluxe vedete vedere composto da tre pezzi e questo set è davvero una chicca perché è composto da una mini conna e poi su c'è una felipina bellissima, perfetta per la stagione autunnale non vedo l'ora di indossarlo perché come per il primo video questi set li sto guardando ora per la prima volta sono super curiosa di testarli testare la loro fattura e ovviamente indossarli e capire come possa essere la loro vestibilità ma sono molto sicura che saranno bellissimi davvero certa allora direi di cominciare con il primo set mi sposto sempre un po' sul lato ok si chiama Elodie Asymmetric Set è composto da due pezzi la particolarità di questo set è proprio il top il top è asimmetrico monospalla e presenta un dettaglio cut out sotto il busto di un vero e proprio taglio che lo rende super particolare ha un design molto leggero traspirante il tessuto è morbidissimo composto da queste costine larghe di un effetto gessato direi sì gessato bellissimo per quanto riguarda invece il leggin anch'esso ha costine larghe con un effetto gessato ha una fascia abidalta di compressione che permette di donare al corpo un effetto supermodellante sul suo retro presenta una cucitura arricciata e questa cucitura insieme al dettaglio di compressione ha forma di mezzo cuore sul retro e salta a curve naturali di chi lo indossa questi capi sono realizzati tutti in tessuti super morbidi sono perfetti per le attività sportive media intensità questo set è veramente bellissimo non vedo l'ora di indossarlo e svolgere tutte le le mie attività sportive sono certa che lo amerò secondo me proprio bellissimo davvero poi ci sono anche i dettagli del logo del secondo set questo colore è pazzesco proprio il più bello che si potesse pensare di realizzare mi piace troppo sul sito c'è scritto deal ed effettivamente deal il colore questo qui è lo shiny and flared set i pezzi di questo set che lo compongono sono realizzati in un tessuto super particolare è il tessuto ocean apart soft sense ed è un tessuto realizzato in maniera tale da essere e risultare incredibilmente morbido sulla pelle e realizzato con una tecnoluzia ultra particolare ovvero la tecnologia four way stretch che garantisce una migliore flessibilità e quindi libertà di movimento questo set crea delle linee super fluide e una silhouette tale che apprezzo davvero tutto il corpo fantastico il bra in particolare è davvero geniale perché è composto da spalline larghe e una scollatura a forma di cuore che dona un aspetto super affascinante il pente è una vera e propria firma di tutto il brand tutti gli elementi di questo band sono posizionati volutamente in questo modo e valorizzano al meglio tutte le curve naturali ha una fascia in vita che forma un cuore cino sul retro questo band ha davvero un bonus assurdo che secondo me fa la differenza ovvero tutti i piccoli oggetti di valore possono essere nascosti nella tasca invisibile che riserva questo set io lo trovo veramente un super bonus per ora è il mio preferito in particolare per il colore non credo si possa battere questo colore ultimo set che vi propongo è questo qui nero questo è il primo set che scelgo dal sito nero questo colore solitamente si tende a prendere sempre i capi di abbigliamento di color nero ma io adoro tantissimo i colori però questo qui mi ha colpito veramente troppo e non potevo non sceglierlo è un set composto da tre pezzi si chiama Brook Mini Skirt Set Deluxe composto da tre pezzi il Cameron Top Brook Mini Skirt e Belle Sweater questo set è bellissimo la canotta è in taglio crop è realizzato in morbido materiale anche su costine presenta una scollatura elegante quadrata e ha un delicato dettaglio del logo sul davanti ha una lunghezza regolabile grazie ai cordoncini presenti sui lati è un top leggero ma anche resistente sicuramente adatto a tutte le attività che richiedono una bassa intensità ma credo sia molto adatto per l'uso quotidiano per quanto riguarda la mini con questa è la Brook Mini Skirt ed è una mini con casual fatta di materiale traspirante morbido e morbido al tatto questa gonna si può indossare sia a vita media che a vita alta tutto questo è possibile grazie all'elastico che è presente in vita ha delle tasche super pratiche che non costano mai ai lati della gonna ciò scollato e anche una piccola tasca decorativa sul retro presenta un dettaglio del logo ricamato in basso la cosa più particolare che rende unica questa con questo materiale è il fatto che sia veramente realizzata in poliestere riciclato una bassa elasticità che è in grado di resistere ai raggi UV questa caratteristica rende il prodotto estremamente fresco è sicuramente un capo di abbigliamento adatto alle attività leggere ma anche ad un utilizzo quotidiano io sicuramente lo utilizzerò come capo di abbigliamento per uso quotidiano è troppo bella questa con per quanto riguarda il terzo pezzo del set però bel sweater questa filpa crop ha una vestibilità super comoda e oversize con una manica dritta ed ampia il colletto è dotato di zip c'è una tasca frontale e il dettaglio del rocco ricamato che non può mai mancare c'è questo cordoncino in vita ovviamente regolabile credetemi questo questi cordoncini che permettono di regolare il top sono ultra utili davvero e questo è il terzo set questi sono i tre set che ho scelto dal sito del brand fatemi sapere nei commenti qual è il vostro preferito a me piace più di tutti il secondo più che altro per il colore e anche ovviamente per la vestibilità lo trovo veramente super elegante come vi ho detto all'inizio di questo video vi lascio in descrizione il codice sconto il lamos 20 per avere il 20% di sconto su tutti i prodotti del sito se vi piacciono i capi del brand ragazzi approfittate del codice sconto in descrizione vi lascio anche il link che vi porterà direttamente vi proietterà direttamente sul sito di Ocean Apart quindi date un'occhiata nella descrizione spero che il video vi sia piaciuto che i prodotti vi siano piaciuti ma soprattutto spero che vi siate rilassati con questo whispering super close up super intenso ho scelto appositamente di utilizzare lo zoom questo microfono per avere come pass di questo video smr un whispering molto close up molto molto ravvicinato ci vediamo al prossimo video vi aspetto vi mando un bacio e aspetto i vostri commenti li leggo sempre ragazzi commentate il video a meno che non stiate già dormendo ci vediamo al prossimo video a meno a meno a meno a meno Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.